Siamo qui in un campo di basket come si è visto Ci sfideremo nei tiri ignoranti In che senso? Praticamente estrarremo dei biglietti Cos'è che estrarremo? La posizione da cui dovremo tirare sul campo E l'oggetto che ci sarà d'ostacolo per il tiro Cos'è che abbiamo come oggetto? Avremo guanti da cucina Una testa da cavallo Una benda Un tutore per il braccio Una fascia per i piedi Tocca prima a ste Tiro da tre Fascia Aria La scialpa agli occhi Aria Aria Noo Noo I guanti Qualità Noo 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 Siccome anche io ho fatto sia l'aria che i tiri da tre Adesso farò un tiro da due Noo 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 Noo